Gentili telespettatori, buona giornata. Il Corriere della Sera scrive oggi perché per quanto riguarda i sondaggi elettorali il centrodestra è quasi irraggiungibile, no? Mancava la canzoncina bello, bello e impossibile, bello e irraggiungibile. Boom nei collegi, per SVG, un'azienda che si occupa di sondaggi, una tra le case più rinomate di sondaggi che ci siano in Italia, la coalizione di centrodestra che vede uniti i tre principali partiti, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, può conquistare fino addirittura al 90% dei collegi. Ma per l'istituto Cattaneo non avrà i due terzi dei seggi totali. Anche qui poi tra gli istituti demoscopici ci sono quelli che parteggiano per la destra, quelli per la sinistra, quindi anche qui, come ci hanno insegnato i virologi, ognuno dice anche l'opposto, l'opposto, ecco, negando l'evidenza, negando anche l'evidenza. Quello che scrive il Corriere della Sera oggi è che per il centrodestra è in salita le elezioni, non è in discesa, è sempre più difficile. C'è un vantaggio del centrodestra anche in organizzazione. Il centrodestra che era partito, che abbiamo visto per un anno e sette mesi, gli sgambetti di Berlusconi e Salvini alla Meloni, le angherie, l'invidia, le proposte bocciate di Fratelli d'Italia per non avvantaggiarla, ne abbiamo viste di tutti i colori, però quando poi è caduto il governo, magicamente hanno cominciato a ragionare. Fortunatamente Berlusconi e Salvini, da quello che si apprende, almeno così, dai giornali, sembrerebbero che ormai siano rassegnati che la Meloni è e sarà probabilmente il premier, a meno che la sinistra non riesca ad impedire alla Meloni di governare con qualcosa che viene dalla presidenza della Repubblica. Insomma, in Italia dobbiamo essere pronti a ogni evenienza. Il traguardo e il vantaggio del centrodestra appare incolmabile, anche se il traguardo dei due terzi dei seggi in Parlamento, con cui si può modificare la Costituzione, appare difficile da raggiungere. Allora, tutta questa paura del centrosinistra di cambiare la Costituzione, è stato proprio il centrosinistra che ha cambiato in passato la Costituzione, ma nessuno si è spaventato. Ah, però, in estrema sintesi, la sinistra è il bene che combatte contro il male, un po' come i cartoni animati di Goldrake, no? Il bene contro il male, no? Ecco, loro essendo il bene contro il male, il bene può cambiare la Costituzione, il male non ci deve neanche pensare, ma la possibilità di modificare la Costituzione sta nella legge italiana. E che cosa vorrebbero fare questi cattivoni del centrodestra? Pensate un po', vorrebbero mettere l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, cioè aggiungere democrazia alla Costituzione, fare in modo che il prossimo Presidente della Repubblica non lo elegga Salvini eletta, Mattarella l'ha voluto Salvini eletta, fare in modo che non siano loro due, ma siano il popolo italiano andando alle urne, un sabato e una domenica scrivere chi vogliono come Presidente della Repubblica. E così c'è da spaventarsi che il centrodestra addirittura vuole fare una roba del genere, che paura, vuole fare che il popolo possa eleggere il Presidente della Repubblica, no, no, sono tornati. Dare più poteri al Presidente della Repubblica, quel Presidente della Repubblica che spesso ha impedito dei governi di centrodestra. C'è così da spaventarsi? Direi proprio di no. Direi proprio di no. I guardiani della Costituzione, insomma. I guardiani, beh, quelli che si ritengono il bene contro il male, ovviamente si ritengono anche i guardiani della Costituzione, della Repubblica. È una sorta, come vi ho sempre detto, di presunta superiorità su tutto quello che non è. Il centrodestra ha circa il 45% dei voti, spiega SVG. Poi altri sondaggi danno anche il 50%, ma questo poi lo vedremo finalmente alle elezioni del 25 di settembre. Lì faremo, credo, una grande, gigantesca diretta per vedere minuto dopo minuto quello che succede. Mentre il centrosinistra, dopo la rottura di Calenda, è sotto la soglia del 30%, addirittura al 26%. C'è una differenza tra centrodestra e centrosinistra di 20 punti percentuali. E con 20 punti percentuali, almeno che i sondaggi non ci abbiano raccontato totalmente delle frottole, la vittoria del centrodestra sembrerebbe decisamente, mai dire banzai, no? Però decisamente quasi, mettiamoci il quasi scontata. Il leader, lo strappo di Calenda, ha rovinato i piani di rimonta di Letta. Ora la coalizione non esiste, è il PD più dei partitini satelliti a cui ha promesso dei posti di lavoro. Il centrosinistra sembrerebbe vincere forse solo nelle sue roccaforti. Secondo Fonda, che non è James Fonda, ma è Rado Fonda, di Head of Research di SVG, dice che gli alleati di centrosinistra potrebbero conquistare circa 15 collegi su 30 in caso di vero exploit. Il centrodestra può conquistare il 90% dei seggi assegnati nell'uninominale. In numeri vorrebbe dire aggiudicarsi circa 132 seggi alla Camera e 74 al Senato. E poi c'è il problema dell'astensione, che potrebbe giocare a favore della coalizione di centrodestra. Gli elettori di destra ora sono più motivati di quelli di sinistra. Questa mi sembra nuova, eh? Fino ad oggi abbiamo detto che quelli che non vanno a votare sono quelli di destra, oggi invece quelli di destra sarebbero motivati ad andare a votare. Boh, non lo so, perché vedete che dicono tutto il contrario di tutto, eh? L'astensione gioca a favore del centrodestra. Boh, non so che dirvi. Adesso l'astensione gioca a favore del centrodestra. Fino a ieri, a mezzogiorno, l'astensione era a sfavore del centrodestra. Io direi che in teoria gli elettori di destra sarebbero motivati, ma anche quelli di sinistra sono sempre stati motivati, loro vanno sempre a votare. Quindi qui forse prevedere che ci sarà un'affluenza alle urne più alta delle precedenti elezioni, quando fino a ieri hanno detto che quest'anno ci sarà un ulteriore calo dell'affluenza alle elezioni, mi sembra di ascoltare i virologi che dicono il tutto e il contrario di tutto. Mentre poi parlano di altre cose, ma non ho tempo, ve le racconterò in un altro video. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo presto.